Ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione del telegiornale di TV City. In apertura la cronaca, minacce e raid armati per estorcere denaro dai titolari di attività di ristorazione, commercianti al dettaglio e rivenditori nel mercato ittico di Pozzuoli sono scattati tre arresti. Poi la situazione Covid nei comuni del Vesuviano, lieve aumento dei contagi a Torre del Greco, ma crescono anche le guarigioni. Restiamo a Torre del Greco dove non migliora la situazione sul fronte rifiuti, duro attacco della Lega all'amministrazione comunale. In chiusura le vacanze estive dei cittadini torresi tra crisi economica e paura di nuovi contagi. Abbiamo raccolto le loro voci, questo ed altro. Guardiamo i servizi. Minacce e raid armati con mitragliettrici e pistole per estorcere denaro dai 800 ai 3.000 euro da titolari di attività di ristorazione, commercianti al dettaglio e rivenditori nel mercato ittico di Pozzuoli. Tre persone sono finite in manette. Questa mattina Pozzuoli, carabinieri del comando provinciale di Napoli, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della locale direzione distrettuale antimafia, nei confronti di tre indagati, ritenuti gravemente iniziati a vario titolo di estorsione, tentata estorsione in concorso e detenzione porto illegale di armi, con le aggravanti delle finalità mafiose. Le attività investigative hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati, in ordine a sei estorsioni a danno dei titolari di attività di ristorazione, commercianti al dettaglio e rivenditori nel mercato ittico di Pozzuoli, con richieste di somme di denaro tra i 800 e i 3.000 euro, anche con l'uso di mitragliettrici e pistole. Gli episodi estorsivi, avvenuti tra il mese di settembre e il mese di dicembre 2017, sono stati messi in atto da un gruppo di soggetti facenti capo ad Avallone Carlo, detto il Fantasma, che forte dell'assenza dal territorio di capi storici del clan Longobardi, avrebbe posto in essere numerosi ride armati e esplosione di colpi d'arma da fuoco, oltre dieci in soli tre mesi, a danno delle attività commerciali. Alla ricostruzione dei vari episodi hanno concorso le attività di intercettazione con i riscontri delle testimonianze rese dalle vittime. Ha giocato un ruolo decisivo il ritrovamento della contabilità contenuta all'interno di una sorta di agente, dove erano indicati, con termini anche criptici, i commercianti da taglieggiare e le somme da pagare. Tale agente è stata rinvenuta all'interno del locale in cui l'Avallone si nascondeva per evitare l'esecuzione di altra misura cautelare. Lieve aumento dei contagi nei comuni vesuviani. I dati degli ultimi giorni non descrivono una situazione allarmante, ma neanche così tranquilla da poter abbassare la guardia e considerare questa pandemia terminata o in via di soluzione. Nel comune di Torre del Greco, secondo il bollettino di ieri sera, sono stati certificati 13 nuovi casi di positività e 8 nuove guarigioni. Continua così a mutare il bilancio dei contagiati, con 84 attualmente positivi, di cui 21 ospedalizzati. Si registra invece un nuovo caso di contagio a Torre Annunziata, a fronte di 17 tamponi processati, con l'indice di positività che si attesta al 5,88%. Non ci sono stati invece guarigioni. Sono 13 invece i cittadini di Castellamare e di Stabbia risultati positivi al Covid-19, dal 4 al 17 luglio. Tra i nuovi contagiati, una piccola di 5 ed una di 14 anni. Sono stati lavorati complessivamente 1.020 tamponi, per cui la percentuale dei nuovi positivi rispetto ai tamponi effettuati è all'1,2%. Registrate anche 8 guarigioni tra i cittadini del Comune Stabbiese. Città ancora sporca a Torre del Greco tra cumuli non raccolti ed ingombranti. E le zone dove insistono mini discarichi abusivi sono sempre le stesse, dal centro alla periferia. I disagi sono più contenuti nella giornata di martedì rispetto al quadro ormai consueto che si registra sempre di lunedì. Un duro attacco all'amministrazione comunale arriva in queste ore dal coordinamento cittadino della Lega. Assistiamo ad un fallimento totale sul fronte rifiuti a Torre del Greco. Denuncia la Lega. Ci chiediamo come governano e cosa ci stanno a fare i nostri amministratori comunali, se non riescono, come dicono, neanche a far rispettare il capitolato d'appalto alla società dei servizi rifiuti. E' ancor peggio se, pur di non assumersi, le proprie responsabilità scaricano le colpe del loro disastro gestionale su noi cittadini, definendoci come una massa di incivili. Ma è mai possibile che la quarta città della Campania sia abbandonata all'incuria e al degrado da un'amministrazione in cui regnano sovrane l'incompetenza e l'incapacità? Questi sono i risultati da capriccianti di un governo cittadino inesistente, che pur di occupare la poltrona, sarebbe disposto a tutto. La nostra è la voce di tanti cittadini, che sono stanchi di vedere la città ridotta così com'è. Tanti torresi pagano tasse salatissime per ricevere in cambio il nulla. Di qui la richiesta del coordinamento cittadino della Lega. Per non mortificare ulteriormente la nostra città, vi chiediamo un briciolo di buonsenso. E' ora di andare a casa. La crisi economica legata alla pandemia incide sulle tasche dei cittadini torresi, che sembrano voler rinunciare alle vacanze estive. Dalle prime interviste raccolte dalle telecamere di TV City, in molti preferiscono restare a casa, anche per la paura dei contagi. Quest'anno andrà in vacanza? No, perché sono senza soldi a causa della pandemia, non lavorando non riesco ad andare in vacanza. Un'estate nera allora sarà? Sì, un'estate molto nera, molto all'insegna della sofferenza a causa di questa pandemia che ci ha soffocato. Quindi speriamo più presto di avere una buona riuscita a settembre, che non ci giuderanno. Secondo lei gli italiani e i torresi in generale andranno in vacanza? Io penso di no, perché già come si evince si vede già il traffico che c'è, la gente che popola le strade di Torre del Greco, anche in settimane. Quindi penso che non hanno abbastanza soldi sufficienti da potersi muovere. Niente vacanza. Perché? Per via del Covid. Abbiamo paura. Per paura? Ah sì. Pensa che la situazione sia ancora complessa? Penso proprio di sì, penso che chiuderemo a breve. Perché? Perché nessuno si vuole vaccinare, quindi... Lei si è vaccinata? Sì, sono vaccinata. Lei quest'anno andrà in vacanza? No. Come mai? Ne so, di noggia nessuno. Preferisco stare qua, ma visto sto casino... Ha paura del Covid? No, non tanto. Se tu rispetti certe regole, perché poi per quanto le rispetti e gli altri se ne furtano, scusa l'espressione, cioè capito, non ha senso poi... Rischiare. Rischiare. Secondo me sì. Perché poi non è mai... Cioè diciamo sempre è colpa degli altri, ma a volte forse siamo pure un po' noi stessi, che, capito, siamo a predicare bene, ma spesse volte razzoliamo male. Secondo lei i cittadini torresi andranno in vacanza? Ma io penso che è un casino ci vanno. Io penso che è un casino ci vanno. Per quanto gli anni scorsi te ne accorgivi dal fatto che vedevi meno gente per strada in certi periodi, vuoi di luglio, vuoi di agosto, no? Ma magari nell'ultimo anno, negli ultimi due anni, causa Covid, questo lo vediamo un po' meno, perché la gente vuoi Covid, vuoi situazioni economiche che non è facile per nessuno di questi tempi... La crisi è tanta. Secondo me si vede, si vede, no? Se la smettono di fare politica, tutto si mette a posto. In questa città stanno rispondendo alla campagna vaccinale, i torresi? Certo, stanno rispondendo, come no? Andrò dai miei figli? Paura del Covid? No, sono vaccinata, io, mio marito, mia figlia, sì. Andrò a trovare i miei figli? La paura c'è, però con le giuste attenzioni, cioè ci andiamo. Secondo lei, a Torre del Greco, i cittadini hanno risposto alla campagna vaccinale? Non tutti, la maggior parte no. Questo scetticismo da che cosa dipende? Non lo so, sinceramente. Io l'ho fatto e sto incentivando le persone a farlo, perché sono per la vaccinazione, sperando che ne usciamo al più presto, perché sinceramente ho due figli piccoli e non vedo l'ora di uscire da questa pandemia, proprio per ritornare a vivere. E con questa notizia si chiude anche oggi questa edizione del nostro TG. Vi ricordo che per info e segnalazioni potete inviare una mail all'indirizzo redazionechiocciolatvcity.it o chiamare al numero 340 6561484. Con questo è veramente tutto, arrivederci a domani. Grazie a tutti.